Potrebbe volerci anche un mese per ripristinare il sistema informatico dell'ASL1 attaccato da un gruppo hacker. L'ASL1 in prima battuta aveva assicurato che non erano stati rubati dati sensibili, ma in realtà sarebbero stati presi oltre 500 giga tra referti, analisi, cartelle cliniche ed esami. Addirittura un esame è stato pubblicato, come ha rivelato il consigliere Giorgio Fedele, sul Deep Web, una porzione di internet sommersa, non indicizzata dai motori di ricerca classici. Si tratta del referto di un'ecografia, con tanto di nome e cognome della paziente. Dietro c'è Ramsower Monti, un gruppo criminale già noto per fatti del genere, che in pratica ha chiesto un riscatto in cambio di informazioni. Ma come spiegano gli esperti, non è detto che pagando le informazioni tornino indietro. La polizia postale sta innagando, ma le operazioni sono lunghe e complesse, perché criminali informatici spesso, anzi sempre, si nascondono dietro pseudonomi, cambiano spesso nome e sono fuori all'Unione Europea. Ieri mattina all'ASL c'è stata una task force per mettere a punto un piano per cercare di limitare i danni, ad oggi enormi per l'attività ospedaliera. Praticamente si deve fare tutto a mano, ma per alcuni settori le difficoltà sono maggiori, vedi laboratorio analisi o diagnostica. L'ASL si sta servendo di un gruppo di esperti di Roma, ma anche della Regione Abruzzo, che sta fornendo una collaborazione attraverso il Servizio Sanità Digitale, con i suoi tecnici e il dirigente Camillo Odio. C'è da specificare però che si tratta di sistemi separati. Quello dell'ASL è autonomo, dunque la Regione sta offrendo supporto soltanto a livello tecnico e di conoscenze. La paura maggiore però, al di là delle difficoltà per medici e utenti, è quella della violazione dei dati sensibili. Il gruppo ha rivendicato l'attacco, dicendo di avere persino i dati delle persone sieropositive. È chiaro che si aprono scenari complessi dal momento che da parte dell'utenza, con dati violati, potrebbero partire richieste di risarcimento danni. Sono al lavoro comunque questi esperti, per quantificare, attraverso un'accurata analisi forense, il danno e procedere al backup e alla bonifica del sistema prima del ripristino. Il servizio, ad ogni modo, presenta probabilmente delle carenze. In caso di attacco di media entità, infatti, più backup avrebbero protetto i dati. Almeno queste sono le indicazioni degli esperti. Anche il Tribunale del Malato è intervenuto chiedendo alla ASDA per il futuro di rafforzare il sistema informatico, mentre il caso arriva in Parlamento grazie al senatore Pidimichale Fina, che ha presentato un'interrogazione al ministro Orazio Schillaci. Grazie. Grazie. Grazie.